Domani c'è la gara contro il Siena, come arriva la squadra a questo appuntamento? Come arriva? Arriva che siamo alla nona e siamo in difetto di classifica, abbiamo avuto questa trasfetta a Modena dove ci sono stati dei segnali positivi e nel stesso momento delle ingenuità che ci hanno messo la partita poi in condizioni ancora più difficili, dobbiamo fare punti, la realtà è questa, in questo momento dobbiamo pensare soltanto a fare punti e essere concreti, purtroppo parlare è anche difficile, perché anche ripetere sempre la stessa cosa poi non va bene. Dobbiamo aspettare la partita di domani, ho chiesto come è giusto che sia ai ragazzi che capiscano veramente che adesso bisogna avere il coltello fra i denti per cercare in tutte le maniere possibili e impossibili di cominciare a muovere questa classifica e a trovare questa risalita, perché poi una volta che si va in campo se non c'è quel pizzico, quella determinazione superiore alla normalità in questo momento si fa fatica. Tempo per preparare la gara ne hai avuto poco, in pratica solo la rifinitura di oggi, un'insidia in più oppure pensi che la voglia e la fame di vincere siano più importanti in questo momento della tattica? No, no, ma in questo momento è importante la mente, la tattica, credo che la squadra alla fine in campo sia bene, qua si deve sbloccare proprio la mente di ognuno per vincere più duelli possibili, per vincere più seconde palle quando ci saranno, per avere più sicurezza in una trasmissione di passaggio, per avere più cattiveria nel difendere, per avere più determinazione nel chiudere le azioni, per riempire di più l'aria, è tutto questo. E ripeto, la prestazione la voglio vedere agonistica, la bellezza in questo momento con una classifica così può andare a farsi benedire, dobbiamo cercare in tutte le maniere di muovere la classifica. Prima della gara contro il Modena avevi annunciato qualche rotazione, viste le tre gare in una settimana, ci fai un po' un punto della situazione sui ragazzi? No, guarda, siamo in una situazione di totale emergenza, perché manchera Foglia, che avevo preferito tenerlo fresco per questa partita, invece quando è entrato che poi l'Inas veniva da due partite consecutivi alla nazionale, l'ho vista in calo proprio negli ultimi 15-20 minuti, si è fatto male alla caviglia, quindi difficilmente ce l'abbiamo a disposizione domani. Bisogno stesso ha avuto un problema sull'azione del 2-0, che ha preso una botta sulla mano e lo devo valutare. Poi abbiamo Martinelli che è in fase di recupero e vediamo. Diciamo che siamo abbastanza in sofferenza dal punto di vista delle rotazioni, però non ha importanza. Chi vuole alla lunga ottiene, quindi noi domani dobbiamo volere, dobbiamo andare al di là, se c'è la fatica la deve cancellare, la voglia di cominciare a fare il risultato, di vincere. Non si può stare qui a parlare di alibi, di scuse, perché saremmo anche poco credibili. Dobbiamo cercare di andare al di là di ogni cosa e dobbiamo avere veramente adesso la voglia di risalire questa classifica, perché onestamente è una situazione che non rende merito al lavoro che si fa, non rende merito agli sforzi del Presidente, non rende merito, lasciatevano dire a chi ha lavorato prima di me e a me che sto lavorando. Quindi non è una situazione che ci piace, però lo dobbiamo dimostrare dentro al campo.